Benvenuti, benvenuti a tutti quanti, molti di voi benvenuti al nostro ottavo giorno. Noi siamo a metà dei nostri giorni del miracolo. Benvenuto a Siliana che traduce in italiano. E oggi diamo il benvenuto al Venerabile Lexo che normalmente è la monastro di essere già in India, è vicino a Bangalore in India, ma adesso è in Italia e quindi per l'Europa è nello stesso tempo, nella stessa zona di orario. Per le persone in America sono ancora un po' indietro. Venerabile Lexo sta studiando il programma di Geshe nel 2004. Sì, è corretto. Ed è quasi terminato. Si manca un po' di tempo per diventare Geshe. Spero, è quasi Geshe. È veramente straordinario. Siamo veramente molto contenti di avere il Venerabile Lexo con noi e oggi il Venerabile Lexo parlerà della vacuità. I versi sulla vacuità dal re della concentrazione, il sud del re della concentrazione. Quindi lui ha preparato una presentazione di PowerPoint. E quindi molto grazie a Venerabile Lexo che sei veramente molto impegnato in questo periodo. Benvenuto a Tushita un'altra volta. Siamo molto contenti di averti qua con noi. Grazie. Sono molto contento di essere qua con Tushita. Ecco, a vedere vecchi amici, quindi a vedervi tutti quanti ancora. Questa è veramente un'occasione, veramente auspicio per i giorni del Miracle. Sono veramente molto contento che Tushita abbia organizzato questo programma e di condividere degli insegnamenti di Buddha con altre persone e di accumulare così dei meriti insieme e spero durante questo periodo di grande auspicio. Ecco perché ho scelto di parlare con le parole di un sutra perché spesso non si parla tanto dei sutra. Noi guardiamo un sacco di testi diversi, dei bandita indiani o eruditi e studiosi del Tibet. Spesso non guardiamo proprio effettivamente le parole del sutra, non tanto. Per molti voi, almeno questo è per me il mio caso, comunque penso che sia veramente molto buono, particolarmente in questi giorni santi e sacri, che è il Sakadawa, il giorno della prima ruota del Varma e poi il giorno in cui il Buddha è disceso dal paradiso. Queste sono le azioni più significate del Buddha, però se guardiamo le parole del Buddha, quello che lui ha insegnato direttamente nel sutra, e contemplare su questo. Ecco perché ho scelto questo sutra della concentrazione. Prima di cominciare, cominciamo semplicemente, cerchiamo di portare la nostra attenzione e quindi cerchiamo di generare una buona motivazione e recitiamo il mantra di Buddha Sakiamuni, come lode a Buddha Sakiamuni. Quindi ci sentiamo per alcuni minuti in silenzio per calmare la mente. Grazie. E poi, se è buono, se potete visualizzare voi stessi circondando tutti quanti gli altri esseri sentienti, effettivamente noi siamo completamente interconnessi con innumerevoli altri esseri sentienti, innumerevoli altri esseri sentienti, alcuni che ci piacciono, alcuni che ci piacciono di meno, e poi anche i nemici che non ci piacciono troppo, e anche tutte le persone che non conosciamo. Visualizziamo questi tre tipi di esseri sentienti, questi tre tipi che ci circondano completamente. Sono esattamente come noi, che desiderano essere felici, non avere la sofferenza, e su quella base cerchiamo di generare una motivazione altruistica. E poi, per aiutare a rinforzare, a completamento, a esaudire, per ottenere lo stato di illuminazione, per ottenere il benessere di tutti quanti gli esseri esseri sentienti, invochiamo le benedizioni di Buddha, Dharma e Sangha, che sono simbolizzate dal mantra di Buddha Sakimono. Potete visualizzare Buddha Sakimono o altri oggetti del campo dei meriti, di paranti a voi. Quindi mi piace recitare questa citazione, una lode a Buddha Sakimono. A te che sei dotato di grande compassione per poter eliminare tutti quanti e per diffondere il santo Dharma, mi prostro. possiamo recitare il nome di Buddha Sakimono e nel prendere il rifugio. Così onoriamo Buddha e invochiamo le sue benedizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti. Spero di avere la capacità di condividere il mio schermo. Prima di condividere, voglio condividere per la maggior parte del tempo. Ci sono circa, ho preso 12 versi dalla Sursa del re della concentrazione, e sono del 39esimo capitolo. Il re della concentrazione. Voglio dire qualche cosa. Prima di tutto, quanto tempo ho per parlare? Perché so che è molto tardi in India, sono le 9 di sera in India, e penso che magari dobbiamo fare per tre ore? No, soltanto un'ora e mezza. No, ho pensato che sarà un'ora e mezza. In questa sessione ho pensato, voglio leggere questi versi due volte. Uno, un po' lentamente, per fare un po' di commentario su ogni verso, e poi dopo lo leggiamo ancora, e quindi cerchiamo di meditare un po' su questi versi. Quindi questi versi sono del re della concentrazione, il re del sud della concentrazione. È un sutra mayana, penso che appartenga al secondo giro della ruota del Dharma, quando il significato della vacuità era stato insegnato direttamente. È un sutra mayana, è stato spiegato in sanscrito, è molto stesso. È uno dei sutra che viene maggiormente citato nella tradizione tibetana, lo vediamo citato estesamente nei grandi trattati, nei studiati degli sentieri dell'Amazon Kappa, nel Labrin Cemmo, e particolarmente nella sessione riguardo alla vacuità, e nella sessione in relazione alla concentrazione, come meditare. Ma anche, mi enfatizza molto, nella visione della vacuità, l'importanza di proteggere il proprio karma, e non impegnarsi nelle questioni negative, impegnarsi invece nelle azioni positive, e anche parla molto dell'attività del Bodhisattro in generale, particolarmente, per il Bodhisattro completamente ordinato, o tutti i monaci completamente ordinati, che praticano il sentire del Bodhisattro. Quindi è stato veramente molto lungo, ed è riguardo, e quindi la traduzione che sto usando viene dal 84.000 progetti, 84.000 progetti, della traduzione di 84.000 progetti, diciamo, 84.000 progetti, di Ken's, il tuo voce, quando tu arrivi indietro, anche se hai le cuffie con il microfono, non so bene com'è la cosa, cerco di parlare un pochettino più, se non riuscite a sentire, per favore fammi sapere, se non mi sentite bene, ci sono tantissimi, loro hanno tradotto tantissimi, su tra le 84.000, su tra, sono 500 pagine, quello che stiamo usando, a 40 versi, e già 40 capitoli, a 40 capitoli, e i versi che io stavo usando, li ho presi dal 39esimo capito, che è il capitolo, adesso vi faccio vedere, il PowerPoint adesso, per farvi vedere, ok, allora, il controllo della mente, del re del Samadhi Sutra, è il capitolo del controllare il corpo, probabilmente, quindi ho preso alcuni versi, dal controllo della mente, dal re del Sutta del Samadhi, in Sanskrit si dice, Samadhi e Raja e Sutta, Samadhi vuol dire concentrazione, Raja vuol dire re, e Sutta sono le parole del Buddha, e ci invitiamo a segnare, Tenzinghialpo, tradotto in inglese, è il re del Samadhi, quindi il completo, è il Sutta Mayan, chiamato il re del Samadhi, che ha rivelato, l'equanimità della natura, di tutti quanti i fenomeni, e quindi noi, normalmente la seconda parte, non sentiamo la qualità rivelata, della natura, di tutti i fenomeni, vuol dire che la natura, di tutti quanti i fenomeni, che sono uguali, vuol dire che tutti quanti i fenomeni, sono originati dipendentemente, per cui sono nella natura, della vacuità, o privi di vera esistenza, sono la natura, veramente, vuoti di vera natura, di essere vuoti, di esistenza intrinseca, e quindi queste, sono uguali, in questo senso, perché sono, la loro natura, è vuota, è vacuità, non esistono, dalla loro parte, sono vuoti di esistenza intrinseca, e quindi, vuol dire che dipenda, naturalmente, particolarmente, parla della vacuità, questa, questa traduzione, è di Peter, ad una voce, ed è uno dei, supervisori, del progetto di 84.000, leggiamo, le diverse, una volta, e lo guardiamo un pochettino, il primo, riguardo, il primo, dei sei versi, principalmente, si guarda, il risultato, del supremo, controllo della mente, e poi, versi successivi, gli ultimi, parla del supremo, autocontrollo della mente, che cos'è? Leggiamo, quel controllo della mente, attraverso il quale, i saggi, raggiungono, il supremo stato, di equanimità, e l'inossidabile, supremo stato, di incompassione, questo è ciò, che è chiamato, il supremo, autocontrollo, controllo della mente, quindi, la domanda, che cos'è, il supremo, controllo della mente, quali sono i benefici, di, del, del controllo della mente, allora, prima di tutto, perché l'ordine, un pochettino, un pochettino, già prima di rispondere, alla domanda, che cos'è, il controllo supremo, della mente, si parla, prima dei benefici, e ognuno, di questi versi, riguarda i benefici, cominciano tutti quanti, con lo stesso, quel tipo di controllo della mente, attraverso il quale, i saggi, attraverso questo controllo, il modo di controllare, o domare la mente, o il modo di focalizzare la mente, il modo di usare la mente, questo controllo della mente, attraverso il quale, gli esseri saggi, i saggi praticano in questo modo, e attraverso quello, praticando in quel modo, loro ottengono, il supremo stato di equanimità, vi ricordate, quando ho spiegato, il titolo, equanimità, si riferisce, equanimità, ma si può riferire a diverse cose, a diversi contesti, naturalmente, e qui, dobbiamo interpretare, di che cosa sta parlando, potrebbe riferirsi all'equanimità, nel senso di, di equanimità emotiva, dove noi non sperimentiamo, attraverso la forza dell'attaccamento, dell'essere, essere completamente eccitati, quando le cose vanno bene, o con la forza dell'infelicità, essere molto depressi, quando le cose non vanno bene, ecco, questa equanimità, in senso, in uno stato mentale equanime, abbiamo un tipo di equilibrio, questo è un certo tipo di equanimità, un altro tipo di equanimità, è quando noi vediamo, che tutte quante le cose, sono della stessa natura, sono della natura dell'impermanenza, sono della natura della sofferenza, sono della natura della vacuità, e quindi, il saggio, che ottiene, lo stato supremo, dell'equanimità, è inossidabile, il stato supremo, della compassione, attraverso questo, modo di controllare la mente, il saggio, ottiene, il supremo stato della compassione, e qui, torniamo indietro, e quindi, nella nostra mente, dovete avere, già, il, il tipo di, controllo della mente, in cui si parla adesso, avere la mente, che è focalizzata, con la natura, ultima delle cose, vedere come tutte quante le cose, sono della natura, della vacuità, e come si fa questa, la domanda è questa, per tornare a questa, come si può fare, praticando, con la nostra mente, in modo tale, che noi possiamo, continuamente, avere la consapevolezza, della natura ultima, la natura, vuota, di tutti quanti i fenomeni, quello, noi siamo dotati, da uno stato supremo, di compassione, completamente, questo, è ciò che, di cui si parla, nella, è il verso 81, questa, quel controllo, della mente, attraverso i quali, saggi, ottengono, un esame facile, una mente, di pura pace, questo, è il distacco, attraverso la ricchezza, hanno tenuto, hanno tenuto, uno stato di pace, pura, che vuol dire, essere una pace, ordinaria, o anche, si può riferire, anche la suprema pace, la pace del nirvana, che vuol dire, uno stato, che è completamente, al di là, della sofferenza, e quindi, possono ottenere, una pace, facile, e distacco, attraverso, distacco, per il benessere, delle qualità, e quindi, distacco attraverso, la ricchezza, di qualità, e questo, e così, non sono coinvolte, con le emozioni, disturbanti, che sorgono, quindi, distacco, attraverso, la ricchezza, di qualità, e quindi, questo è ciò, che è chiamato, il supremo, controllo della mente, quindi, questo, è, quella, controllo, attraverso, il quale, queste qualità, si ottengono, si chiama, supremo controllo, della mente, invece, successivi, sono, quel controllo, della mente, attraverso, il quale, i saggi, non si associano, con persone malvagie, e con coloro, che hanno opinioni, sbagliate, e non sviluppano, una mente di malissia, o una mente di avarissia, questo è ciò, che viene chiamato, il supremo controllo, della mente, quindi, ancora, un effetto, di questo, di questo tipo, di modo, di usare la mente, che di focalizzare, di focalizzare la mente, non ci si associa, con delle persone malvagie, cosa sono le persone malvagie, normalmente, sono delle persone, che hanno, dell'impatto negativo, su di noi, e che vuol dire, sono persone con le quali, o se noi, se ci associamo, fanno sì, e causano, sono delle condizioni, molto forti, per le emozioni, disturbanti, di far sorgere, nella nostra mente, le emozioni disturbanti, siccome abbiamo, la propensità, di essere arrabbiati, per esempio, e quindi, in questo modo, stiamo con delle persone, che sono sempre arrabbiate, che parlano sempre, delle cose negative, cose che non piacciono, degli altri, le cose negative, che vedono negli altri, le insultano, e così via, naturalmente, questo ci fa pensare, nello stesso modo, ci fanno parlare, nello stesso modo, e quindi, e quindi, attivano tutti quanti, i nostri semi, di rancore, rabbia, e così via, e quindi, delle visioni negative, nei confronti degli altri, quindi una tale persona, attraverso loro, sono sotto il potere, delle loro emozioni, disturbanti, allora, parlando con noi, mostrando questo tipo, di comportamento, non soltanto, ci influenzano, nel far maturare, i nostri semi, di azioni non virtuose, ma anche, hanno un effetto negativo, su di noi, e noi, così dopo abbiamo, un effetto negativo, sulle altre persone, quindi, noi dovremmo cercare, di non associarsi, con le persone, che sono malvagie, e con coloro, che hanno delle opinioni, sbagliate, non è che, siano delle persone, sbagliate, semplicemente, cercare di evitare, di loro compagnia, per evitare, di essere infezate, dal loro comportamento, e poi, coloro, che hanno delle opinioni, sbagliate, o per esempio, che per esempio, le vite passate, non esistono, le vite future, non esistono, non esiste, da darmi sangue, non esiste, causa effetto, e così via, e tutte queste cose, anche tutte quante, le persone muorono alla fine, per cui finisce tutto quanto, e quindi, con questo controllo della mente, non ci si associa, le persone malvagie, e quindi, non ci associamo, con coloro, che hanno delle opinioni, sbagliate, e non sviluppiamo, una mente di malizia, o di malevolenza, o una mente di avarizia, l'avarizia, è intensa, avarizia, no? E che, dobbiamo pensare, come si fa, come, il controllo della mente, di cui stiamo parlando qua, è una consapevolezza, della natura ultima, di tutti quanti i fenomeni, avere la consapevolezza, della vacuità, e come si può fare, fare questo, come fa, farci sviluppare, questa mente, non avarizia, e non, malemolente, normalmente, è detto, che, adesso, voglio guardarvi un attimo, voglio vedervi un attimo, e ci sono diversi antidoti, cioè, l'antidoto, un diretto antidote per la malevolenza, è l'amorevole gentilezza, la mente dell'amore, e, però, la meditazione sull'amore, l'amorevole gentilezza, è, perché, la malevolenza, noi osserviamo la persona, o la cosa, e generiamo, e vediamo soltanto l'aspetto negativo, e a causa di quello, noi generiamo, avversione, verso l'oggetto, verso la persona, e quindi, desideriamo danneggiare quell'oggetto, ci desideriamo distruggere, quindi potete vedere, che quella, l'amore, e la gentilezza, ci focalizziamo, sullo stesso oggetto, effettivamente, e generiamo il desiderio, che possa essere felice, che stia bene, e quindi, deve essere una persona, una persona, può essere anche un oggetto inanimato, comunque, quindi, la mente di amore, verso, la persona, e quindi, noi vediamo, vediamo quella persona, e cerchiamo di vedere quella persona, le qualità positive, di questa persona, e quindi, ricordiamo, le loro potenzialità, nel, 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 nel generale, il desiderio, che possono essere felici, e avere, 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 avere la felicità, stare bene, e quindi, vedete che questo va direttamente, contro, opposto, alla malevolenza, alla malizia, e poi, l'avarizia, è, un, il desiderio, un desiderio, di cercare di tenere strette le proprie cose, e, e poi, l'avarizia, ancora, l'avarizia, ancora, riguardo tutte quante le qualità, e, essere contenti, e, pensiamo, ai difetti, invece, di sentire, soltanto, le qualità, di un oggetto, proietta, su quell'oggetto, quello che vediamo, l'abilità, di portarci, una grande soddisfazione, dalla parte dell'oggetto, ci può dare soddisfazione, abbiamo delle aspettative, completamente, non realistiche, pensiamo che ci possa andare, la felicità ultima, mentre, invece, questo non è assolutamente il caso, naturalmente, perché, se questo fosse il caso, allora, con una tassa di caffè, perché, che noi abbiamo, allora ci dovrebbe dare più soddisfazione, vediamo benissimo, che non è così, perché, diciamo, se viviamo completamente il caffè, al quale siamo attaccati, allora stiamo male, dopo ci fiamma di testa, eccetera, e, quindi, abbiamo come delle aspettative, che non sono realistiche, quindi, vedere, guardare, gli aspetti negativi, delle cose verso le quali noi siamo attaccati, e questo diventa un'attitudine all'attaccamento, anche come, questo oggetto dell'attaccamento, non ha il potere, di soddisfarci a livello ultimo, questo è un altro tipo di antidoto all'attaccamento, il mio punto è qua, è che, sta diventando, un po' difficile, capire, comunque, ognuna delle afflizioni mentali, ha degli antidispreci, per quella, afflizione mentale, è una mente opposta a quella, però, non si possono applicare nello stesso modo, quindi, l'amorevole gentilezza, che è un antidoto per l'attaccamento, non è un antidoto, l'amorevole gentilezza, che è un antidoto per la rabbia, e la malevolenza, non è un antidoto per l'attaccamento, per l'orgoglio, o la gelosia, e la mancata di capacità, di un oggetto di darci la nostra soddisfazione, la meditazione su questo, antidoto all'attaccamento, o all'avarissia, in questo caso, non è un antidoto per la rabbia, o per l'ancore, mentre, la meditazione sulla vaguità, è un antidoto per tutte quante le affezioni mentali, perché? Perché è così? E questo è il punto principale qua, e questo è il punto che, adesso vogliamo leggere, che voglio mostrare questo, infatti, quello che sto dicendo, è in relazione a quello che dico qua, adesso, quel contenimento della mente, per cui i saggi non agiscono con fissione, nemmeno per un istante, non agiscono con l'inganno verso, quel controllo della mente attraverso i quali saggi, non si associano con persone malvagie, con colori che hanno opinioni sbagliate, non si unipano una mente di malizia, una mente di avarizia, questo è ciò che è chiamato il supremo controllo della mente. Quindi, perché vedendo la natura ultima delle cose, allora, noi non facciamo sorgere il rancore e l'attaccamento, perché non vediamo le qualità dell'oggetto, le qualità negative o le qualità positive dell'oggetto, non vediamo queste come esistenti dalla loro parte. generalmente, e come detto in questo verso, spesso citato da Sostanità e da Elama, penso anche a 400 stanze di Ariadeva, 400 stanze di Ariadeva, ci sono quattro passi che noi possiamo generare il karma contaminato, ovvero il verso di base dice che abbandonando il karma contaminato e il difetto del karma contaminato sono le punizioni disturbanti e quindi noi possiamo ottenere il nirvana. Quindi, il karma negativo e le afflizioni mentali vengono da ciò che è chiamato Namda, la maiesce, lo chiama come pensieri negativi, un'altra traduzione, però il termine giusto è veramente, vuol dire e credere in un modo sbagliato, in un modo non corretto, l'emozione negativa dell'afflizione mentale, dell'attaccamento o della rabbia, vengono a credere ai pensieri che sono, credere erroneamente a dei pensieri, a degli oggetti in un modo sbagliato che ci fanno generare avversione oppure neutrale oppure avere attaccamento attratti da un oggetto. Quindi sono soltanto queste tre possibilità. Quindi quando noi vediamo un oggetto, diciamo abbiamo l'avversione o siamo attaccati, abbiamo attrazione, vediamo delle quantità particolari. Quando abbiamo avversione vediamo le qualità negative e ci focalizziamo su queste e abbiamo il desiderio di separarci da queste. Quando siamo attratti da un oggetto vediamo le qualità positive e desideriamo di essere vicini, di avere questo oggetto per possederlo o di stare vicino a questo oggetto, a questi oggetti. Quindi qui il problema è che credere in un modo non corretto a questi concetti. Cosa vuol dire? Quando noi vediamo le qualità positive o le qualità negative di un oggetto, attraverso la forza dell'ignoranza di afferrarsi all'esistenza intrinseca, abbiamo l'idea che queste qualità esistono intrinsecamente nell'oggetto. Non hanno assolutamente niente a che fare con la mia idea o come io percepisco le cose, è semplicemente il modo come l'oggetto è. Effettivamente sembra, è veramente dispiacevole, non è attraente. per quello che riguarda verso le cose verso le quali abbiamo avversione. Dall'altro lato, sembra che l'oggetto verso il quale noi abbiamo attrazione è attraente, è qualche cosa di veramente piacevole, perché tutti quanti vorrebbero questo oggetto. ma quindi questo modo sbagliato di credere è vedendo le qualità come se fossero intrinsecamente esistenti, intrinsecamente esistenti come positivi, intrinsecamente negativi, allora generiamo avversione oppure attaccamento verso questi oggetti, verso le altre persone anche. Quindi il passo prima di questo è prima di tutto percepire noi stessi e gli altri oggetti che come esistenti intrinsecamente e quindi c'è questo quattro passeggio quando percepiamo noi stessi e pensiamo di tutto quanto nel mondo come esistenti intrinsecamente dalla loro parte e poi li percepiamo gli oggetti che vediamo abbiamo questa distanza o di vicinanza e gli altri oggetti che noi vediamo attraenti oppure repellenti vediamo le qualità attraenti o negative come esistenti intrinsecamente esistenti esclusivamente dalla parte dell'oggetto quindi noi esageriamo questi oggetti la natura di questi oggetti come intrinsecamente attraenti o repellenti e poi sulla base di questo desideriamo attaccamento verso attaccamento o avversione e quindi su quella base ci impegniamo nelle azioni karmiche questo processo in quattro parti quindi da questo punto da questo cerchiamo di immaginare come se noi continuamente facciamo così e pensiamo che siamo tutti e tutto quanto interconnesso e tutto quanto sorge dipendentemente cambia continuamente ed è veramente etichettato dalla mente indipendenza da questo continuo cambiamento e siamo completamente interconnessi questa incredibile interconnessione questa relazione fra tutti quanti i fenomeni noi etichettiamo io gli altri il tavolo qualsiasi cosa la persona animali tutte queste cose in un certo modo sono tutte quante convenzioni sono tutte quante fabbricazioni sono etichette che noi mettiamo su questi oggetti nessuna di queste cose esiste dalla loro parte e quindi cos'è che esiste è veramente difficile dire cos'è che esiste è tutto quanto come un sogno però cerchiamo di immaginare se noi tutti quanti i fenomeni non esistono dalla loro parte non hanno assolutamente il più piccolo atomo come esistente intrinsecamente queste sono infinite interconnessioni di fenomeni e quindi quello eliminerebbe di afferrarsi alle cose come essere attraenti o repellenti e quindi volere qualche cosa e non volere qualcos'altro e questo è il tipo di stato mentale che viene espresso in una tradizione mistica in molte tradizioni religiose ma comunque questo tipo di controllo della mente questo tipo di consapevolezza dell'origine dipendente sulla vacuità e questo ci protegge dal generare appunto la mente negativa quel contenimento della mente o quel controllo della mente per cui i saggi non agiscono con finzione nemmeno per un istante e non agiscono con l'inganno verso il duro questo è ciò che chiamate il supremo controllo della mente quindi se noi abbiamo questo tipo di consapevolezza della religione dipendente della vacuità non agiamo con il pretendere di essere qualcosa e quindi non diventiamo così egoisti non abbiamo appunto la pretesa di essere esageratamente bravi e anche non ci impegniamo nelle azioni non virtuose non cerchiamo di nascondere non si agisce con l'inganno o in un modo disonesto e non si inganna il guru e poi quel tipo di controllo della mente che i saggi non lo sviluppano nel desiderio la rabbia nella mente e quindi semimilmente non fanno sorgere la ricerca dell'ignoranza e quindi non fanno sorgere nel desiderio nella rabbia nella mente e questo nello stesso tempo non danno mai origine all'ignoranza e qui quando parliamo l'ignoranza è l'afferrarsi alla esistenza intrinseca del Dio e dei fenomeni la spiegazione qua la spiegazione di questo verso quello che ho detto prima e poi il verso 85 quel controllo della mente attraverso il quale i saggi nel loro menti non rinunciano all'illuminazione e la cui motivazione superiore non viene mai scossa questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente quel controllo della mente che hanno i saggi non hanno assolutamente non abbandonano mai l'aspirazione di ottenere lo stato all'illuminazione e quindi è la motivazione superiore è bodicita e quindi è bodicita è la motivazione superiore che è di diventare di ottenere l'illuminazione e così uno non è perché così non soffrirò più questo sarebbe una motivazione inferiore però avendo la compassione la compassione è incredibile vedere la sofferenza di tutti quanti gli esseri essenti quindi si identifica con la sofferenza di tutti quanti gli esseri essenti ancora di più e con la propria sofferenza e quindi uno così sente il benessere di tutti quanti gli esseri essenti che è molto più importante che il proprio benessere e quindi ancora questo come diceva sempre su una città ci sono 77 miliardi di altri esseri e quindi per il benessere di 7 miliardi di persone è molto più importante che il benessere di una persona anche perché tutti quanti gli esseri essenti sono esattamente come noi che desiderano ottenere la felicità e vogliono essere liberi felicità di essere liberi dalla sofferenza con un'altra persona per esempio un fratello o un amico noi non diremmo la mia la mia felicità il mio interesse per me stessi la mia felicità la mia sofferenza è in qualche modo è meno importante la felicità di un altro ma lo stesso modo quindi se noi scambiamo il post mettiamo ci mettiamo nei piedi nei pari di un'altra persona non possiamo dire che un'altra persona che desidera essere felice è meno importante di noi siamo tutti quanti uguali siamo tutti quanti ugualmente importanti quindi semplicemente la prospettiva è difficile perché siamo completamente collegati con questo corpo con questo continuo mentale però se lo guardiamo in un modo oggettivo ogni singolo essere sentente che sia il più piccolo degli insetti o un grande animale o uno spirito o una persona malevola o una persona malvagia e così via tutti quanti le altre creature tutti quanti sono deboli di santo tutti quanti loro hanno lo stesso l'importanza del loro desiderio di essere felici e il loro desiderio di essere liberi dalla sofferenza esattamente lo stesso quindi in quel modo in questo è veramente dobbiamo pensare in un modo saggio e quindi ha senso e noi ci preoccupiamo più del benessere degli altri che non è nostro e quindi quando pensiamo qual è la fonte della felicità sono gli altri esseri sensenti ogni momento vogliono in qualsiasi momento noi sperimentiamo qualsiasi tipo di gioia o una barra di cioccolata qualsiasi cosa o delle cose mondane supramondane le cose più sublime la beatitudine che noi abbiamo avuto nel corso degli insegnamenti della meditazione o dei grandi insegnamenti o le esperienze in grande qualsiasi cosa anche una visione profonda tutte queste vengono in dipendenza dagli altri esseri sensenti senza gli altri esseri sensenti non potremmo sperimentare nessuno di questi piaceri in questa vita né nelle incalcolabili vite passate anche per questa ragione dobbiamo prenderci cura del benessere degli altri devo tornare a questo perché quindi che cosa è la suprema controllo della mente la consapevolezza della vacuità è un po' difficile da spiegare questo però cercherò di dire per quale motivo è anche possibile per noi ottenere l'illuminazione stavo pensando a parlare di questo oggi stavo parlando di questo che cos'è la motivazione superiore che non viene scossa qual è questa motivazione sempre diciamo il desiderio di ottenere l'illuminazione per i beneficiari di tutti quanti gli esseri sensienti che non viene mai scossa questa abbiamo la consapevolezza della vacuità di base è perché la consapevolezza il fatto che tutti quanti gli esseri sensienti sono vuoti di vera esistenza di esistenza assoluta è perché è ciò che stabilisce la possibilità che tutti quanti gli esseri sensienti possono ottenere la completa di illuminazione quindi se noi guardiamo il nostro proprio continuo mentale quindi è possibile per me ottenere questo è possibile per me ottenere l'illuminazione posso io stesso prendere dentro la nostra mente tutte le cose terribili che abbiamo fatto tutto il karma negativo che abbiamo creato tutte quante le abitudini negative che noi abbiamo tutte quante le cose che attivano le persone che parlano così si reagiscono così se è possibile purificare tutta questa roba tutta questa spassatura è possibile eliminare tutte queste spassature dalla mente se non è possibile allora non c'è modo che noi potremmo ottenere l'illuminazione è impossibile quindi quando noi guardiamo tutte quante la spassatura che parte di noi è possibile purificare tutto questo effettivamente eliminare completamente eliminare completamente senza neanche la più minima traccia di questo sì perché perché nessuna di queste cose esiste intrinsecamente sono tutte quante cose avventiste e quindi sono dipendono da case condizioni quindi sono temporane sono dipendono dalle condizioni e nessuna di questa è della natura della mente o della natura di noi stessi come persone se fossero così se tutte queste cose queste spassature fosse della natura della mente allora dovrebbero essere continuamente presenti ovunque ci sia la mente dovrebbero essere sempre presenti esattamente come il caldo è presente quando c'è il fuoco esattamente una qualità intrinseca del fuoco come l'umidità è sempre presente con l'acqua con la luce c'è sempre cosa vuol dire essere della natura di quella cosa che cosa vuol dire è come quando noi c'è la natura una delle caratteristiche del legno per esempio è che è solido e non possiamo avere del legno liquido magari ci vuole essere un prodotto che si chiama così però non è veramente legno è così e quindi quando noi parliamo della natura della nostra mente c'è una natura convenzionale è una natura ultima della mente la natura convenzionale è la mente che meramente ciò che è chiaro e ha la capacità di conoscere e quando pensiamo a questo è un po' come uno specchio è come uno specchio uno specchio nel manito può riflettere qualsiasi cosa gli arriva davanti ma nessuna delle immagini che venga riflessa lì sono della natura dello specchio perché se lo fosse ogni volta che noi guardiamo la mente la vedremo quel riflesso e se noi prendiamo una mela davanti e poi guardiamo lo specchio vediamo la luce vediamo il riflesso della mela e quella mela è presente c'è il riflesso della mente presente nello specchio è presente nello specchio ma analizziamo questo questo riflesso riflesso della mela nello specchio è lì presente però a causa di differente cause e condizioni c'è la mente e c'è la luce quindi ci sono i vostri occhi che possono percepire il riflesso della mela nello specchio quindi però quel riflesso se fosse della natura e dello specchio allora anche se noi prendessimo via le mele ogni volta che guardiamo lo specchio dovremmo vedere la mela mentre invece non succede così e quindi non c'è assolutamente il riflesso di questo che ha una forma fisica che può essere riflessa nello specchio però nessuno dei riflessi è della natura dello specchio allo stesso modo qualsiasi oggetto che esiste può apparire nella nostra mente ma nessuno di questi oggetti nessuna delle apparenze di qualsiasi oggetto sono della natura della mente quindi alcuni che qualsiasi tipo di emozioni anche le emozioni sono oggetti le emozioni sono oggetti che noi le vediamo le vediamo come oggetti come osserviamo come emozioni possiamo osservare le nostre emozioni però anche sono anche qualità della mente sono stati della mente che noi possiamo generare però alcuni possiamo guardare come queste diverse afflizioni mentali particolarmente che non sono della natura della mente è più utile usare un'altra analogia pensate per esempio a un lago un oceano è la superficie dell'acqua e se se non c'è se se tutto ciò che è presente è l'acqua c'è il lago o anche il letto del lago il letto dell'oceano immaginate non c'è assolutamente niente che influisce non ci sono le onde non c'è vento non c'è non ci sono uccelli non c'è assolutamente non ci sono terremoti non c'è lo tsunami non c'è niente che disturba l'acqua allora che cosa fa l'acqua rimane ferma calma completamente sembra uno specchio sofferenza come un pezzo di vetro come vetro l'acqua è completamente inamovibile non si muove ma è completamente pacifica e la superficie diventa completamente quindi riflette riflette tutte quante le cose qualsiasi cosa che appaiono nella superficie quindi allo stesso modo la nostra mente è della stessa natura così questo è un po' come la natura convenzionale della mente la nostra mente è però se non è disturbata da altre cause e condizioni e naturalmente dimora in un modo calmo in uno stato di pace all'emozione distruttiva l'emozione disturbante è ciò che disturba la pace della mente quindi ricordate quando dicevo prima l'emozione disturbante appare con questo e questo e questo processo no? prima di due c'è l'ignoranza fondamentale che si afferra all'esistenza intrinseca dell'io e degli altri quindi crea questa dualità e poi negli altri vediamo le cose attraenti oppure repellenti pensiamo che siano veramente così dalla loro parte non ha assolutamente niente che fare con la nostra percezione e la nostra abitudine e quindi diventano veramente abbiamo l'attaccamento verso desideriamo le cose e abbiamo avversione verso ciò che non ci piace e quindi generiamo repulsione e quindi le vediamo non a te e tutto questo tutto questo processo dall'ignoranza fino disturba la pace della mente la tranquillità della mente e quindi per tornare dietro alla vacuità la possibilità dell'illuminazione la natura convenzionale della mente di sicuro nessuna di questi fattori disturbanti della mente sono tutti quanti come riflessi nella mente certe volte sono presenti certe volte non lo sono presenti e quindi noi possiamo analizzare veramente nella nostra esperienza personale ci sono queste frizioni mentali che sono sempre presenti quando la mia mente c'è la mia mente sono sempre presenti no tutte queste appaiono soltanto e l'altra cosa un'altra domanda fondamentale è che tutto quanto la spazzatura è parte è possibile purificare tutto questo e l'altra cosa un altro modo di guardare le cose è che no perché non sono della natura convenzionale della mente quindi un altro modo di guardare le cose è che no perché tutte queste cose sono vuote di vera esistenza e quando noi cerchiamo qualsiasi di queste cose che sono parte di noi stessi è come se voi entrate dentro a una foto e vedete per esempio un fiore un fiore un'immagine e quindi volete vederlo più chiaramente allora entrate e fate zoom dentro a un certo punto diventa sempre meno chiaro e cominciate a vedere una cosa più diversi pixels vedete piccole parti dell'immagine e l'immagine diventa sempre granulosa più entriamo a cercare di vedere l'oggetto non lo vediamo quindi in accordo alla visione conseguenzialista della via di mezzo che è la natura ultima la visione ultima della realtà in tutte le quattro le quattro scuole del buddismo tibetano qualsiasi oggetto che esiste quando uno cerca per quell'oggetto quando uno cerca quell'oggetto che è etichettato dalle parole da un concetto non riuscite a trovarlo quando voi cercate entrate dentro per cercare di vedere l'oggetto precisamente non riuscite a trovarlo è veramente che è originato dipendentemente quindi di diverse cose la base è la base su cui si può etichettare l'oggetto però la base per essere etichetto cerchiamo di cercare non riusciamo a trovare neanche questo quindi come funziona questo come si può analizzare su tutto quanto traspassatore della persona che può essere purificata nessuna di queste che è di base niente di questo ha un'esistenza concreta dalla sua parte e quindi come tutto quanto ciò che esiste e quanti aspetti negativi che sono parte di noi sono sorgono sono avventissimi e quindi 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 vuol dire che cambiano 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 completamente qualsiasi tipo semi di rabbia che noi abbiamo magari noi abbiamo questi semi di rabbia se abbiamo con queste cause e condizioni che abbiamo quando noi ce le abbiamo sono semplicemente sono semi nella foranza che non devono essere lì possiamo fare qualche cosa per eliminarli e quindi noi possiamo ridurre le cause e condizioni che fanno sorgere queste e quindi fortunatamente noi arriviamo all'ignoranza la causa fondamentale di tutte di queste emozioni disturbanti nella nostra mente è l'ignoranza è il modo sbagliato di apprendere le cose questa è l'esagerazione della natura indipendente delle cose quando non esistono come isolate come separate dalle cose o cause condizioni così a causa di questo questo è veramente molto importante perché tutto quanto la spazzatura che è parte di noi stessi come persone tutte queste sorgono da questa questa concessione errata fondamentale questa ignoranza e quindi noi possiamo eliminare questa la causa ultima del samsara la più raffinata la più fine la più fondamentale la causa fondamentale di tutte quante le sofferenze e quindi noi possiamo purificare tutte quanto tutta la spazzatura che è parte di noi quindi adesso torniamo indietro ai versi se noi possiamo vedere chiaramente queste cose e abbiamo la consapevolezza della origine dipendente della rapuità allora questo ci dà una comprensione che non si scuota ed è possibile purificare tutte quante le affezioni mentali tutte quante il karma negativo tutte le cause contaminate del karma negativo e tutto l'attaccamento la gesia l'arroganza l'avarizia tutta la rabbia il rancore tutte quante le competitività possiamo eliminare completamente le cause fondamentali e quindi è possibile anche generare una saggezza infinita la comprensione infinita pazienza infinita gentilezza e generosità e attraverso la visione della rapuità che noi possiamo effettivamente arrivare a comprendere che l'illuminazione è possibile ed è soltanto attraverso la generazione della conoscenza della cognizione valida una comprensione che l'illuminazione è possibile l'aspirazione per quella illuminazione diventa che non si può scuotere è veramente impossibile scuotere quindi la vera ragione soltanto per molte persone naturalmente abbiamo tutti quanti l'esperienza per le persone che sono stati nel buddismo maiana nella tradizione sanscrita del buddismo per un po' di tempo ci hanno avuto l'esperienza prima di aver sentito le qualità del Buddha le qualità dell'amore della compassione nella terra pure nel bodhisatta e diventare veramente veramente siamo completamente affascinati di queste qualità meravigliose di queste incredibili possibilità e poi ci si butta dentro completamente e realizzare che dopo qualche anno che non è così facile cambiare ci sono molte cose che noi avevamo come queste idee idealistiche proprio e diventiamo più realisti realisti dopo e quindi c'è il pericolo che noi perdiamo la nostra aspirazione per ottenere questa incredibile alta ideale dell'illuminazione e quindi è una delle ragioni principali che la persona abbandona l'aspirazione di ottenere l'illuminazione per il beneficio di quanti gli altri sentiti perché loro sentono che si sentono come è impossibile io non sono mai capace di fare questo non sono ragione per cui noi ci sentiamo così perché noi non abbiamo veramente una chiara comprensione perché effettivamente è possibile e quindi e quindi quando quando parliamo del sentiero del bodhisattva i cinque sentieri del bodhisattva per esempio il sentiero dell'accumulazione il sentiero della preparazione il pensiero della visione il sentiero della meditazione e del sentiero non più a prendimento magari qualcuno conosce il sentiero quando si entra nel sentiero dell'accumulazione dei cinque sentieri quando uno genera una bodhicitta incontrovertibile vuol dire che giorno e notte spontaneamente e continuamente l'aspirazione per ottenere la completa illuminazione per evitare tutti quanti gli esseri essenzienti e sorge nella propria mente però ci sono alcuni bodhisattva che quando prima generano la bodhicitta incontrovertibile generano e hanno il forza il desiderio di nel sentiero di accumulazione ci sono tre livelli il piccolo il medio e il superiore quindi alcune bodhisatte possono tornare indietro da quello piccolo e quindi quando siete nel sentiero piccolo dell'accumulazione poi praticamente si può lasciare andare la bodhicitta alcune bodhisattva che realizzano la bodhicitta incontrovertibile possono cadere fuori da questo e quindi rientrano ancora nel sentiero inayana perché questo perché non hanno ancora realizzato la bodhicitta e una volta che un bodhic è stata realizzata la bodhicitta in generale una percezione valida della bodhicitta allora non perderà mai più bodhicitta e quindi potrei andare un pochettino questa è un'altra illustrazione di questa e dell'importanza di questa relazione della mente che realizza la vacuità e quindi può realizzare la possibilità di purificare tutte le cause della sofferenza le emozioni disturbanti e tutto quanto il carno negativo e quindi purificare completamente la mente e quindi ottenere lo stato dell'illuminazione e di essere così in grado di aiutare tutti quanti di essere sensi una volta che realisi l'evacuità combini questo con l'aspirazione per ottenere la completa illuminazione e il bodhicitta allora non non crolla non si può scuotere quindi ancora quel controllo della mente attraverso il quale esaggine la loro mente non rinuncia all'illuminazione la cui monetizzazione superiore non viene mai scorsa questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente quel controllo della mente e cui saggi non trattengono alcuno degli altri numerosi difetti dalla mente che ci possono essere questo è ciò che viene chiamato controllo supremo della mente quindi con la realizzazione dell'evacuità taglia completamente tutte le altre infezioni mentali perché la visione diretta dell'evacuità è ciò che elimina completamente tutti quanti gli altri difetti mentali qua stiamo a parlare cos'è questo assenese della mente e cos'è allora questo controllo della mente qua si parla si parla nel verso precedente c'è quel controllo della mente attraverso il quale i saggi le persone saggi attraverso questo controllo della mente possono completare questo 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 altro tutti conoscendo tutti quanti i benefici e buoni risultati qui ancora loro comprendono i saggi cos'è questo controllo della mente loro comprendono questo e quindi questi due versi parlano esattamente questo che cos'è il controllo della mente loro comprendono che la mente è come un'illusione è come un sogno è semplicemente come un miraggio avendo sempre la caratteristica di un'allucinazione questo è ciò che è chiamato il supremo controllo della mente e quando noi sentiamo tutte queste analogie nel buddismo essere come un sogno come un'illusione come un miraggio come un'allucinazione è quasi si parla sempre della vacuità o della mancanza del sé in un qualche modo in accordo anche nelle quattro varie scuole vai bacica citramatra e magia manca tutti quanti usano queste analogie e queste illustrazioni e quindi sono fondamentalmente sono la stessa cosa questo è come insomma un miraggio un sogno un'allucinazione e in qualsiasi di questi casi in queste analogie in qualsiasi di queste analogie il modo come queste cose appaiono e il modo come effettivamente le cose appaiono sono diverse sono discordanti quindi pensate per esempio a un sogno in un sogno per esempio che noi siamo siamo a letto stiamo completamente in un sogno abbiamo un sogno non riconosciamo il sogno come sogno e quindi ordinariamente noi sogniamo e quindi noi vediamo vediamo il sogno le apparenze nel sogno stavo sognando l'altro giorno che avevo perso un dente nel mio sogno vedete il dente pensate che sia veramente il dente ho detto oh Dio ho perso un dente vedete un cavallo che sia veramente un cavallo e vedete un burrone e cadete giù dal burrone e quindi nel sogno le cose appaiono come reali come vere però effettivamente sono semplicemente è soltanto un burrone nel sogno e semplicemente state volando su questo è soltanto un sogno avete il dente è soltanto nel sogno quindi quando è il momento del sogno se voi avete questo non avrebbe nessun tipo di emozione l'impatto emotivo nella vostra mente anche quando guardate un film se voi potete mantenere la mente che questo è semplicemente un film è semplicemente di attori non vi è influenzato però se lasciate andare questo e entrate completamente dentro a questo mondo immaginario del film allora veramente vi spaventate molto e quindi così allo stesso modo nel sogno nel sogno il modo come le cose appaiono come appaiono reali però non sono reali sono come un'illusione le cose appaiono c'è questa allucinazione come se le cose siano ma non lo sono e quindi nel miraggio si vede come appunto l'acqua quando sopra la sabbia e il calore sembra che sia un'acqua in lontananza ma non lo è e che l'allucinazione dove tutte quante le cose sembrano sentite le cose e sembra che sia un certo tipo di creature per esempio sentite come un rumore o pensate che ci sia un animale che sta arrivando nell'armadio ma non è semplicemente magari il vento che sta soffiando e così questa è l'immaginazione non è l'allucinazione l'allucinazione è vedere delle cose sentire delle cose che non ci sono non ci sono non esistono proprio quindi similmente quando parliamo della natura ultima delle cose nel modo come noi percepiamo tutto quanto è completamente sbagliato in accordo alla scuola media amica particolarmente la scuola dei conseguenzialisti il modo come tutto quanto appare tutto quanto ci appare agli occhi le orecchie gli odori i sapori e così via nel modo come qualsiasi oggetto appare alla nostra coscienza tutti quanti appaiono come esistenti da loro parte non esistono in quel modo neanche il più piccolo degli atomi esiste in quel modo quindi bisogna imparare ad essere consapevoli di questo verso successivo loro comprendono che la felicità è come un sogno e così e quindi similmente allo stesso modo in permanente vuota e transitoria e come comprendono la felicità comprendono che la felicità è come una rappresentazione di tutti quanti i fenomeni di essere come un sogno e il verso precedente dice la mente e questo è veramente importante perché comprendiamo che la mente è come un'illusione quindi qua si parla del supremo contenimento della mente o completo controllo della mente anche se le cose appaiono come esistenti dalla loro parte per il loro potere separati dalla mente loro non esistono in quel modo assolutamente non esistono però particolarmente guardando la nostra mente come appare la nostra mente come ci appare dobbiamo analizzare questo quello che ho detto qua il modo come la nostra mente ci appare il modo come effettivamente esiste sono completamente diverse la mente ci appare come esistenti dalla sua parte come esistenti in un modo indipendente ed etichettata sulla base dell'essere etichettata e appare come esistenti intrinsecamente non come etichettata sulle base e quello che esiste è qualcosa che è meramente etichettato sulla base che viene etichettata è meramente etichettato su l'insieme delle parti e nessuna di queste è la mente quindi similmente la nostra mente è come un sogno come un sogno come un allucinazione come un miraggio quindi il saggio comprende anche la felicità infelicità attaccamento rabbia tutto quanto come essere come un sogno anche comprendono che tutto quanto è impermanente e cambiano attimo dopo attimo vuoto vuoto di esistenza intrinseca e anche vedono cose come essere transitorie e che non durano e quindi i saggi comprendono la mente in questo modo e ancora qui si parla si parla di comprendere la natura ultima della mente e quindi i saggi comprendono la mente in questo modo questo è ciò che è chiamato il supremo controllo della mente e quindi vediamo la mente come permette la mente non assolutamente un'esistenza intrinseca o non c'è assolutamente niente non c'è niente che possieda la mente o qualcosa che esiste indipendentemente loro capiscono la mente e senza anima anima vuol dire forse una traduzione di Dio la mente è senza un'esistenza intrinseca senza essere io voglio dire comprendono che senza essere nel senso che non è esistente dalla sua parte e che sorge da condizioni come il cerchio di fuoco di una torcia rotante quindi immaginate per esempio una persona per esempio delle volte le persone che hanno per esempio una una hanno per esempio una fuoco che poi dopo giurano usano una braccia di una di un quando si vede per esempio hanno una corda con infiammato e lo girano e girano continuamente e allora questo lo fa apparire come un cerchio però non è un cerchio di fuoco non c'è un cerchio di fuoco perché quando uno cerca di vedere il cerchio quello che vedete vedete il tuo mezzo dito viene colpito dalla braccia c'è l'apparenza di un cerchio solido di fuoco ma non c'è un cerchio solido di fuoco semplicemente perché si muove fortissimamente e quindi c'è questa immagine completamente un'illusione e quindi quell'apparenza del fuoco il cerchio di fuoco sorge a causa di cause e condizione per causa della corda del fuoco e la sostanza che sta bruciando e che è stato acceso con una fiammifera eccetera tutte queste diverse cose tutte diverse condizioni che sono state messe insieme e quindi creano questa apparenza di qualcosa che esiste come se esistesse ma che non è quindi gli esseri saggi comprendono la mente che è priva e che sorgono da condizioni come appunto il cerchio di fuoco di un attore senza venire da nessuna parte e senza andare da nessuna parte e da dove viene la tua mente e da dove va questo è ciò che è chiamato il supremo controllo della mente e poi gli altri due versi non oggettivano mai la mente e sono senza con i saggi quando servono la loro mente non la oggettivizzano e non la concentualizzano come esistenti dalla sua parte hanno sempre consapevoli che la loro mente è continuamente sorge e si trasforma ed è impermanente ed è impermanente nel senso che si disintegra momentaneamente e continuamente immediatamente cambia nel momento successivo diverso dal momento precedente e quindi non oggettivizzano niente né concettualizzano tutto quanto in un processo e continua a divenire e quindi questa idea errata che effettivamente c'è questa cosa concreta la mente la mia mente che esiste dalla sua parte quando noi guardiamo per la nostra mente noi cerchiamo di trovare la nostra mente tutto quello che noi troviamo è un insieme di tanti vari fenomeni diverse percezioni memorie del passato sensazioni del futuro del presente tutte quante percezioni il caldo il freddo la luce il buio e così via i pensieri i suoni le immagini le memorie che vengono tutte queste diverse cose che esperienze che noi abbiamo sorgono continuamente e passano e quindi senza fermarsi per un attimo continuo continuo ma quando parliamo della mente ci si riferisce a tutte queste cose ma dov'è la mia mente dove la mente sì sì noi abbiamo una mente però se qualcuno chiede ma quante menti hai naturalmente dice una mente però dov'è quella mente e dov'è che cos'è effettivamente noi le etichettiamo questa cosa su questo insieme di cose che cambiano continuamente questi fenomeni non c'è assolutamente niente che è in quel modo noi oggettivi creiamo concettualizziamo non c'è effettivamente una cosa è semplice noi cerchiamo analizziamo e riusciamo a trovarla e quindi gli esseri saggi non concettualizzano assolutamente mai la mente e senza la concettualizzazione orgoglio questo vuol dire il pensiero della concettualizzazione e quindi quindi senza arroganza e senza orgoglio quindi non si fissano su di essa né non si fissano su di essa o né si aggrappano e questo è quello che ha chiamato il supremo controllo della mente e si comprendono la verità ultima che è come un sogno e nirvana è come un sogno i saggi comprendono la mente in questo modo questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente ok ecco questa è la prima la prima volta che la leggiamo adesso adesso lo leggo ancora un'altra volta e quindi ci fermiamo a meditare un poco e voi potete io vorrei faccio questo perché voglio dare così quando leggete diversi diversi di leggerli poi dopo meditare e pensare intellettualmente a questi e poi una volta che una volta potete leggere una volta senza pensarci è una cosa di beneficio per i due possiamo leggere e pensarci di molto più di maggior beneficio però è una grande differenza nel fermarsi per alcuni momenti e pensare effettivamente che è quello che è stato detto è molto molto di maggior quindi vi incoraggio di fare questo leggere contemplare e meditare quindi prima di leggere un'altra volta voglio dire di base i punti guida perché non voglio dare delle istruzioni di meditazione ci fermiamo per alcuni momenti cerchiamo di meditare nel nostro modo potete usare io voglio adesso mettere questo voglio una parola alla chat potete guardare al verso qualsiasi verso che voi volete adesso provo a vedere fare questo mentre sto facendo questo non riesco a non sono sicuro se questo funziona idealmente voi potete qualsiasi verso che voi guardate che volete questo non funziona sto cercando di fare in modo che voi potete guardare qualsiasi verso che volete ok adesso lo trovate nella chat c'è un documento word nella chat che potete trovare di base quello che voglio dire il modo di meditare ci sono tre modi diversi uno è un modo di guardare la natura convenzionale della mente cercare di riconoscere che cos'è la vostra mente cos'è la natura convenzionale della vostra mente nel buddismo diamo la definizione di ciò che è chiaro e che ha la capacità di apprendere e conoscere cerchiamo di riconoscere e essere completamente consapevoli della natura della vostra mente stessa e quindi è un altro modo che uno può progredire è di guardare come la mente è impermanente e sappiamo che continuamente ogni momento sorge un set di causa e condizioni ogni momento cambia e passa avanti e diventa diventa qualcosa che non era prima e quindi in altre parole è guardare la natura impermanente della mente come cambia continuamente il terzo modo più difficile è di vedere la natura ultima della mente che è meramente etichettata dalle parole e dai concetti e quando noi cerchiamo la mente non riusciamo a trovare troviamo soltanto quello che troviamo è la base delle etiche per essere etichettate quindi tiene un set di cause e condizioni che noi etichettiamo mente e queste loro stesse non sono la cosa che è non sono la mente che viene etichettata e quindi siccome la mente è sorge interdipendente allora sorge indipendenza delle parti indipendenza delle cause e condizioni e particolarmente indipendenza di ciò che viene etichettato mente in questo insieme di fenomeni e quindi è vuota di esistenza interese ecco questo è un po' difficile però se vi piace potete provare ancora cercate di leggere questi questi versi una volta quindi leggiamo e meditiamo su questi controllo della mente attraverso il quale i saggi raggiungono il supremo stato di equanimità e l'inossidabile supremo stato di compassione questo è ciò che è chiamato il supremo autocontrollo della mente quel controllo della mente attraverso i quali i saggi ottengono un esame facile una mente di pura pace e il distacco attraverso una richiesta di qualità questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente quel controllo della mente attraverso il quale i saggi non si associano con persone malvagie e con coloro che hanno opinioni sbagliate e non sviluppano una mente di malizia o una mente di avarizia questo è ciò che è chiamato il supremo controllo della mente controllo della mente attraverso il quale i saggi non agiscono con finzione nemmeno per un istante e non agiscono con l'inganno verso il duro questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente quel controllo della mente attraverso il quale i saggi non sviluppano desiderio o rabbia nelle loro menti e allo stesso tempo non danno mai origine all'ignoranza questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente quel controllo della mente attraverso il quale i saggi nella loro mente non rinuncia all'illuminazione e la cui motivazione superiore non viene mai scorsa questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente quel controllo della mente per cui i saggi non trattano tengono alcuni degli altri difetti mentali della mente che si possono essere questo è ciò che viene chiamato il controllo supremo della mente essi comprendono che la mente è come un'illusione come un sogno allo stesso modo come un miraggio avendo sempre la caratteristica di un'allucinazione questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente loro non comprendono che la felicità è come un sogno loro comprendono che la felicità è come un sogno e nello stesso modo è impermanente vuota e transitoria i saggi comprendono la mente in questo modo questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente loro capiscono che la mente è senza anima senza essere e che sorge dalle condizioni come un cerchio di fuoco di una torcia rotante che non viene da nessuna parte e senza andare da nessuna parte questo è ciò che viene chiamato il supremo controllo della mente non oggettiva mai la mente e sono senza concettualizzazione e orgoglio non si fissano di essa né vi si aggrappano questo è ciò che viene chiamato il controllo della mente il supremo controllo della mente ora comprendono che la verità ultima è come un sogno e nirvana è come un sogno i saggi comprendono la mente in questo modo e questo è ciò che è chiamato il supremo controllo della mente ora meditiamo un po' come vi piace per circa otto minuti un po' Grazie a tutti. 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 tra tutti. tutti. Grazie a 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 tutti.